La vittoria della volontà in capo a una prestazione da applausi, non tanto per lo spessore tecnico, quanto per la benegazione che i biancoverdi hanno saputo mettere in campo fino al 94esimo. L'Avezzano, nuovo corso, parte col piede giusto e incamera tre punti importantissimi sia per la classifica che per il morale. Ma ad essere sinceri, erano pochi i tifosi che prima della partita pensavano alla vittoria, se non altro per le vicissitudini che la società del neopresidente D'Alessandro ha dovuto fronteggiare nel corso degli ultimi giorni. Ma alla fine tutto è finito bene e nel dopo partita in sala stampa si notavano solo sorrisi pieni di speranza. Giampaolo fa di necessità virtù e si arrangia con quello che passa il convento. Squadre che si studiano e per una ventina di minuti non accade praticamente nulla. Poi Deramo in buca per Padovani che in area controlla ma si decentra troppo e al momento del tiro sbaglia completamente la mira. Passano tre minuti e ci provano anche gli ospiti con Longobardi che si libera con un dribbling secco e va al tiro cross che spedisce la sfera ad attraversare tutta l'area marsicana ma senza fare danni. Al trentatresimo Riccardo Manuzzi avanza centralmente e trova spazio per il tiro che Fanti intercetta a terra, poi perfeziona Di Gian Felice. Trentasettesimo Tamagnini sfonda a destra e cross a basso questo pallone che sfila pericolosamente a fondo campo. Per i locali Padovani offre un assist a Deramo che però deve fare i conti con un terreno infido e il controllo e il tiro non sono pari alle speranze. Ci si avvicina al termine del primo tempo e c'è un angolo per la Savignanese. In area vezzanese c'è Fanti che deve fare i conti con compagni e avversari ma tutto si risolve per il meglio. E infine proprio al 45esimo Deramo riceve al limite, stoppa, si gira e conclude ma la palla si perde di poco sopra la traversa. Gara che sembra incanalata verso uno 0-0 scritto a fuoco ma la ripresa dimostrerà il contrario. Si ricomincia con Longobardi che gira un pallone partito dalla destra e lisciato da tutti ma il tiro dell'attaccante dall'interno dell'area termina altissimo. Al sedicesimo la vezzano passa in vantaggio. Il lancio è di Graziosi per Besana che si inserisce centralmente come un vero attaccante. Pazzini esce completamente a vuoto e per il difensore non è difficile insaccare a porta vuota. In campo si festeggia mentre sugli spalti molti tifosi faticano a credere ai loro occhi. Immediata la risposta dei Romagnoli con questo spunto di Francesco Manuzzi che dalla sinistra crossa la soterra un pallone che poi si perde sul fondo. Replica bianco verde e palla gol per Padovani che potrebbe approfittare di un altro errore ospite ma solo davanti a Pazzini l'attaccante non trova di meglio che tirargli addosso. Passano altri minuti e questa volta è il quarantesimo l'errore è di Grazioso. Sta per approfittarne Longobardi che però conclude alto per fortuna della vezzano che ringrazia sentitamente. Altro giro di lancette e Marsicani subiscono il pareggio. Angolo per la Savignanese e in mezzo all'area Succi stacca imperiosamente di testa e insacca imparabilmente. Il sogno dei bianco verdi subisce un violento contraccolpo ma oggi la dea bendata sembra ben disposta a dare loro una mano. Proprio così perché passa un solo minuto e la banda Giampaolo torna in vantaggio. Conti apre per Besana che trova ancora il barco giusto e ci si infila. Pochi passi e tiro a botta sicura che però Pazzini le spinge col corpo ma ben appostato c'è Padovani che a porta vuota non si fa pregare per metterla dentro. Avezzano 2 Savignanese 1 A questo punto gli ospiti si riversano in attacco per agguantare di nuovo il pareggio e Fanti è chiamato al lavoro su uno degli ultimi tentativi avversari bloccando a terra l'insidia. E per concludere vi mostriamo il contropiede dei padroni di casa che potrebbero arrotondare ulteriormente con Grazioso che però spreca così la palla del possibile 3 a 1. Ma a conti fatti forse per i Romagnoli sarebbe stata una punizione eccessiva. Per l'Avezzano un pomeriggio sperato lungamente. Dalle ceneri si può anche risorgere e l'araba fenice forse non è soltanto fantasia. Inizia il nuovo corso, una nuova vita per l'Avezzano. Giampaolo, una vittoria della volontà oggi possiamo dirla. Sì, una vittoria di cuore, di sacrificio, di voglia. Io sinceramente prima della partita era un ternallotto perché non pensavo come potesse andare a finire la partita. Però ho detto ai ragazzi che 11 in campo dovevano dare tutto il massimo e oggi sono arrivati al novantesimo stremati. Abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare più gol. I nuovi che sono arrivati hanno fatto benissimo, ancora non sono in condizione al 100%. Però era una vittoria che ci dà assolutamente coraggio, morale, perché i ragazzi che sono rimasti qui erano un po' destabilizzati dalla situazione che si è venuta a creare. Però oggi ho visto veramente una squadra che ha voluto combattere fino alla fine e penso che il risultato sia giusto. Tre sono arrivati ma sicuramente non vi fermerete qui? No, con la società stiamo valutando. Il mercato è iniziato da poco. Abbiamo preso anche un direttore sportivo di grande esperienza, Traini, per cui insieme alla società sicuramente questa squadra deve essere completata ma lo faranno sicuramente per il bene dell'Avezzano, per il bene di tutti perché l'Avezzano è una piazza importante ed è giusto che se c'è da mettere qualche toppa bisogna metterla più presto. Inizia un nuovo campionato. Per te come allenatore che cosa cambia? Devi ricominciare quasi da zero? Insomma non credo che sia un compito agevole, no? Sì, perché è normale che i giocatori poi devono capire la metodologia di allenamento e ci vuole tempo. Oggi era una vittoria fondamentale. Che arriverà sicuramente si metterà a disposizione. Bisogna lavorare il doppio di come abbiamo lavorato perché bisogna ricominciare da capo. Però, ripeto, sono fiducioso perché oggi ho visto una squadra con 3.299 e un 98, avevamo 6 under, poi abbiamo il 70% di under. Abbiamo fatto una partita secondo me storica. Un'ultima cosa, il campo, il terreno è in pessime condizioni? Sì, è in pessime condizioni. Io spero che adesso pian piano risolviamo anche questo problema perché giocare su questo campo non è facile. Ma sono convinto che la società prenderà dei provvedimenti. Adesso è iniziato un nuovo corso. Bisogna dargli tempo perché sono entrati da una settimana. È normale che le problematiche bisogna risolvere pian piano. Però ci sono buoni presupposti per migliorare tutto l'entourage dell'Avezzano. Farnetti, due errori che vi sono costati la partita. Due errori quasi inconcepibili per una difesa forte come quella vostra. Avevate subito soltanto 11 reti fino ad oggi. È vero. Abbiamo subito due gol con facilità che di solito non subivamo. Questo è successo. Il perché o il per come lo dico alla mia squadra. È successa una cosa che di solito non concedevamo. Quanto ha influito il campo pesante? Perché il pallone non è che scorresse perfettamente oggi. No, no. Il campo c'era per noi, c'era per loro. Anzi, ti dirò che non abbiamo avuto grandi difficoltà del campo. In questa stagione qui può succedere di trovare un campo così pesante. Ha già individuato, non le chiedo, i particolari, i colpevoli di questa sconfitta? No, no, no. Da noi i colpevoli non ci sono. Da noi i colpevoli non ci sono assolutamente. La mia squadra a fine partita deve recriminare di quello che ha fatto, deve migliorare. La responsabilità non è mai individuale, ma è sempre collettiva. Quindi, ripeto, gli errori non sono sicuramente sintomo di colpevolezza.